ciao ragazzi siamo nella splendida cornice del lago del turano e oggi vi presento il Thunlang G7 il nuovo pick up a trazione integrale part-time prodotto da FOTION FOTION è un marchio del gruppo bike che ha venduto oltre 10 milioni di veicoli nel 2023 fondata nel 1996 FOTION ha iniziato producendo i mezzi pesanti su licenza Toyota il Thunlang G7 è arrivato ormai alla sua terza generazione ed è distribuito in Italia dalla Eurasia Motor Company leader di mercato in Cina e Asia FOTION è apprezzata anche in Sud America avendo partecipato al rally di Atacama e ha due edizioni della Dakar nel 2014 e nel 2016 questo veicolo rappresenta una novità interessante per il mercato italiano ora facciamo una panoramica andiamo a vedere le sue caratteristiche ma soprattutto lo andiamo a provare su strada e in fuoristrada prima di metterci alla guida diamo un'occhiata al Thunlang G7 la prima cosa che colpisce è la sua struttura a longheroni tipica dei veri track questo pick up è lungo 5 metri e 34 per 1 metro e 94 di larghezza ed è alto 1 metro e 90 con un passo di 3 metri e 11 centimetri il suo peso complessivo è di 2080 kg l'altezza minima da terra è di 23 centimetri all'anteriore ed è la stessa che troviamo sotto la boccia del differenziale posteriore il frontale è caratterizzato da una grande griglia che gli conferisce un aspetto robusto e aggressivo lateralmente presenta le classiche forme di un pick up a doppia cabina dietro la cabina c'è un ampio cassone rivestito con vernice antigraffio le dimensioni del cassone sono un metro e 58 di profondità in basso e un metro e 52 in alto con una larghezza di un metro e 58 ma prima dei passaruota e un metro e 14 tra questi la portata varia tra gli 880 e 900 kg mentre la capacità di craino è di 3000 kg sotto troviamo una protezione in ferro per il motore e ulteriori due protezioni sempre in ferro che vanno a coprire i due serbatoi a di blu e quello del carburante le sospensioni anteriori sono indipendenti con doppio triangolo sovrapposto mentre al posteriore c'è un ponte rigido con balestre ammortizzatori i cerchi in lega sono da 18 pollici con pneumatici toyon open country at 3 da 265 60 r 18 i freni a disco auto ventilati sono generosi 320 mm con pinza doppio pompante all'anteriore e 325 mm sempre ventilati al posteriore ma con pinza flottante a singolo pistoncino i gruppi ottici sono principalmente a led tranne per gli anabbaglianti e gli indicatori di direzione follow me home per i fari anteriori ed è regolabile dai 30 ai 90 secondi e adesso diamo uno sguardo agli interni prima di salire notiamo la pedana di serie utile per accedere comodamente all'abitacolo anche se riduce la luce a terra e non offre una protezione laterale gli sportelli sono rifiniti in morbida pelle e includono i comandi elettrici per i finestrini anteriori quelli posteriori la regolazione degli specchi e il comando per sbloccare le portiere il sedile del conducente è regolabile elettricamente mentre quello del passeggero è regolabile manualmente le cinture sono regolabili in altezza ed è dotata di sei airbag compresi quelli a tendina la plancia è minimalista e accattivante anche se i dettagli in simil carbonio sembrano un po economici in questa versione a cambio automatico il freno a mano è elettro attuabile la seduta posteriore può essere ribaltata verso l'alto e agganciata al poggiatesta tramite un cordoncino rivelando un vano contenente cric triangolo e soprattutto una strop nel cruscotto troviamo un display a colore di a 7 pollici per le informazioni e due strumenti circolari la grafica è chiara e ben visibile ma non cambia a seconda delle modalità di guida il volante è rivestito in pelle ha un diametro giusto ed è dotato di palette lo schermo centrale touch da 10 pollici e 25 ha un'illuminazione interna a 7 colori sul tour nel centrale c'è un rotore per selezionare le quattro modalità di guida 2h 4h 4l e auto grazie al riduttore prodotto da borg warner la modalità automatica auto gestisce la trazione tra gli assi anteriori e posteriori risultando molto utile il climatizzatore automatico ai sedili anteriori sono riscaldabili su tere livelli non c'è purtroppo il pad di ricarica wireless ma ci sono due prese usb e un hotspot wifi sono presenti vari sistemi di assistenza alla guida gli adas che possono essere disattivati tra cui il blend spot door open warning l'avviso di uscita dalla corsia e l'avviso di collisione infrinata sia anteriore sia al posteriore non c'è il qui contro l'attivo ma solo quello normale le telecamere a 360 gradi possono registrare su scheda sd sotto il cofano che è dotato di pistoncini per mantenerlo alzato troviamo l'aspirazione collocata oltre un metro d'altezza il motore è un turbo diesel a quattro cilindri dal 1968 centimetri cubi con 162 cavalli a 4000 giri e 388 newton metro di coppia tra i 1800 e i 2600 giri sviluppato in collaborazione con riccardo è omologato euro 6 ed emette solo 235 grammi di co2 e pesa 205 kg il motore è dotato di un turbo a geometria variabile prodotto da borg warner è un sistema igr innovativo la testata in lega di alluminio lo rende 40 kg più leggero lo scambiatore di calore aria acqua per cooler posizionato in alto evitando danni da urti con oggetti bassi il cambio automatico è uno zf a otto rapporti guidando il tun land g7 su un percorso misto incluso anche l'autostrada ho apprezzato la sua maneggevolezza nonostante la sua mole e il comfort grazie anche a una buona insonorizzazione del motore e l'ottima progressione del cambio zf sui percorsi in fuoristrada adatte alle sue caratteristiche ha mostrato una buona trazione grazie anche a tutta l'elettronica di serie e al sistema autobloccante al posteriore lo sterz progressivo e reattivo ma si alleggerisce alla velocità più elevate le palette al volante poi insolite per un pick up sono particolarmente non utili in fuoristrada la visibilità all'anteriore è buona grazie anche alla chiara visuale del cofano una cosa importante e molto interessante è il consumo in modalità eco abbiamo riscontrato un consumo di 12 litri per 100 chilometri non vi spaventate in fuoristrada e in città tranquillamente su un ciclo misto possiamo attestarci intorno agli 8 litri per 100 chilometri la frenata richiede una pressione più energica nella prima parte del pedale risultando leggermente spugnosa ma è adeguata al pick up le sospensioni anteriori assorbono bene le asperità del terreno mentre quelle posteriori sono rigide tendono a sobbalzare comportamento tipico dei pick up soprattutto quando sono scarichi tant'è che abbiamo fatto il test anche con nove quintali caricati sopra il cassone la macchina è migliorata tantissimo anche se aveva un atteggiamento passatemi il termine un po budinoso però ovviamente è andato a lavorare e quindi a ridurre quella sensazione fastidiosa appunto del rimbalzo le telecamere a 360 gradi sono utilissime in manovra anche se potrebbero migliorare la risoluzione comunque sono un ottimo supporto nei parcheggi e anche per i passaggi in fuoristrada adesso arriviamo alla cosa più importante il prezzo questo Tundland G7 che abbiamo in prova ha un costo di 33 mila euro e scende a 31 mila per la versione a cambio manuale a sei rapporti sono disponibili alcuni optional come il gancio traino il rollbar la serranda copricastrone e l'artop questo mezzo è garantito per tre anni o 100 mila chilometri attualmente le officine concessionari sono 24 ma Eurasia Motorsport ha garantito che entro fine del 2024 arriveranno circa a 40 quindi non vi preoccupate sull'assistenza ai pezzi di ricambio in conclusione il test di guida di questo pick up ha rivelato un mezzo robusto e versatile adatto sia per l'uso quotidiano sia per le avventure in fuoristrada la maneggevolezza in città è sorprendente considerando le dimensioni il comfort di guida è veramente elevato su autostrada il motore mostra una buona progressione e il cambio automatico ZF 8 rapporti offre cambi di marcia fluidi in fuoristrada si comporta egregiamente grazie alla diversa modalità di guida e alla trazione integrale automatica inoltre il prezzo competitivo insieme alla garanzia di tre anni o 100 mila chilometri rende questo pick up una scelta interessante per chi cerca un veicolo affidabile e performante grazie anche oggi abbiamo finito un caro saluto da luigi il fotion e da questo splendido palcoscenico del lago del turano a mi raccomando se il questo appunto servizio ti è piaciuto like e condividi poi se rientri tra le persone che mettono lei che condividono ma non sono iscritte mi raccomando iscriviti al nostro canale ciao iscriviti al nostro canale